Il ricordo più bello della mia esperienza a IAUR? Penso che il ricordo più bello che ho, anche se può sembrare un po' nerd, sono le lezioni in generale, perché a IAUR la quantità di studenti che provengono da culture diverse, da paesi diversi, rende davvero le discussioni in classe veramente stimolanti e interessanti. E questo mi manca molto, e ricordo anche spesso queste discussioni poi venivano portate al di fuori della classe e continuavano per ore in giardino. Professionalmente parlando, IAUR mi ha arricchito perché mi ha dato l'opportunità di entrare in una realtà internazionale, mi ha aiutato ad ampliare i miei orizzonti e mi ha dato gli strumenti per poi andare a lavorare in un contesto multiculturale. Personalmente parlando, IAUR mi ha arricchito incredibilmente, mi ha regalato alcuni degli amici più importanti che ho e queste sono amicizie che nonostante la distanza, nonostante dopo la laurea le nostre strade abbiano preso direzioni diverse, so che sono amicizie che porterò con me per tutto il resto della vita. Come descrivere IAUR in tre parole? Direi accogliente, stimolante e frizzante.